ok becca 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 fa lì restare piuttosto che non sto bruciando un'invisibile vieni dentro la cucina fam sei sereno cash morto ho un accanto per la mia nade no tranquillo sereno è sempre sull'alpha non capisco si si è sempre sull'alpha il merda guardalo lì mamma madre piccami i rest piccami i rest quale sei dai dai regà grande lì arrivo non ritorno non ritorno arrivo non ritorno l'acqua ti guardalo mi mi vuoi mi 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 3 la parola la città grande rega bravo odo e ci ha lanciato la nade dove torno dove c'era la nade ma poi vuoi ridere la protetto col corpo capito ha fatto se ha fatto il body e ma così si dovrebbe anche fare il problema l'ha fatto il light a un medium c'è fav gli sfondo a loro capito abbiamo abusato di quello ma è dentro? vabbè ci... ah no portiamolo all'indietro se lo pecchiamo raga portiamolo di c e non ci passa andate nell'altro building qua vuoi fare anche il giro tranquillamente adesso siamo arrivati davanti 10-10 mi sento sopra di me l'indietro qua cercate sempre di fare team work l'hp con l'ho ok ho sentito l'hp con l'ho ok ho sentito l'hp con l'hp con l'ho oh ok e si perché ti hanno messo guarda guarda che cazzo non ha fatto sì 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 no 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 rispondo andiamo via Fabio andiamo via andate e tagliateli la strada andate andate e di fronte a me verso il c sopra di me una qua sopra però ce la ce la vado avanzo raga e uno davanti mid vado andate su cash out voi tiro diritto e sosseguendo fatto un altro va 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 bolla bolla c'è una go c'è una go per bloccare levatevi 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 raga c'è una mina c'è una mina c'è una mina scoperta la mina c'è un'altra c'è un'altra l'ho fatta ok vado di sopra fab deve giocare vicino che shout no vabbè raga fa morire sta cosa no hai visto stanziamo il team che arriva e si vede sta roba sto pisellone e poi reagisce comunque guarda fuori acqua tetto occhio lì eh arrivano arrivano ha fatto scuotere tutto ha fatto scuotere tutto sempre sopra sempre sopra da me è safe se volete giocare da me è safe no io sto dall'altra parte non riesco app 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 gioca piano lì riesce a lanciare delle mine sopra qua si fa uno non ha capito vabbè io ho messo i miei c4 nel duc ho uno fatto uno arriva nel c4 pazzo っち questo giace spara t2 c2 è troopsa di minato grazie bravi bravi o raga i kingfist 5 6 4 Grazie a tutti.